Ai microfoni di Roma 3 Radio la senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa ordinaria di farmacologia presso l'Università degli Studi di Milano. Buongiorno. Senatrice, quanto è importante la ricerca scientifica per lo sviluppo sociale e culturale d'Europa e d'Italia? Non riuscirei a immaginarla assente, fa parte del nostro DNA, è lo strumento attraverso il quale scopriamo quel che ci circonda, acquisiamo informazioni per arrivare ad applicazioni e a terapie, quindi quanto è importante da 0 a 100? Direi 120. Perfetto. Qual è la situazione della ricerca in Italia? È una domanda un po' generica, la situazione la descriverei così, siamo capaci di grandi cose, abbiamo straordinari scienziati, ottime enti di ricerca, ottime università, quasi miracoloso tutto questo perché da ormai troppi anni c'è un costante depauperamento e disinvestimento. Il problema di quando si tolgono le risorse alle idee è che calano le passioni e quando calano le passioni si rischia di finire nella disgregazione sociale, quindi il non finanziare la ricerca ha molti più risvolti negativi del semplice e già drammatica perdita di conoscenza. Come si può agire a livello governativo e comunitario per arginare le fake news scientifiche che a volte mettono a rischio la salute del cittadino? Io penso che gli studiosi abbiano competenze e ruolo oltre che responsabilità in tutto questo e credo si debbano mettere a disposizione. Quindi studiosi, docenti, esperti di comunicazione, insomma che aiutino il nostro paese a restare ancorato alla realtà. Significa intervenire ogni volta che una cosa sbagliata viene riportata, ogni volta che una menzogna viene alimentata. Del resto penso siano queste le persone che debbano agire da sentinella per il nostro paese, quindi difendere i cittadini dalle fake news. Se non lo fanno i competenti non so chi altro possa farlo. In questo periodo storico sempre più ricercatori e ricercatrici lasciano il nostro paese per cercare fortuna all'estero. Che consiglio si sente di dare loro? Ognuno deve poter andare liberamente dove ritiene che vi siano più opportunità per lui o per lei, quindi libertà totale. Il mio consiglio è di seguire le opportunità. Se mai siamo noi in Italia che dovremmo lavorare di più per crearle affinché non solo coloro che sono andati ma anche molti altri possano arrivare nel nostro paese. Grazie. Grazie.